Dall'esperienza di chi ha vissuto una rapina nella propria abitazione arriva un sì piuttosto deciso al decreto sicurezza, ma è più in generale. A Mestre l'argomento fa molto discutere, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista pratico. C'era anche prima, non è una cosa nuova. E dice che non è cambiato granché. Direi di no, insomma. Direi che è giusto che uno a casa sua è libero di difendersi, però non è giusto che sparia quello che sta scappando. Non si può uccidere una persona per una cosa, sì, un furto, capisco un furto, però per quello non si può uccidere una persona. Se entra in casa e minaccia la famiglia il discorso cambia. Da una parte è favorevole perché credo che nelle proprie case, nelle proprie attività, si debba essere un po' più sicuri di se stessi. Sono un po' contrario a chi dice adesso compratevi un'arma. Lei non lo farebbe? Assolutamente no, anche perché con un bambino in casa è difficile comprarsi una pistola, un fucile o quant'altro. Però sapere di poter agire per il proprio conto in casa propria credo sia corretto. Io a casa mia dovevo difendermi, se no non è casa mia, è casa di tutti, tutti possono entrare e fare quello che vogliono. Hai paura che qualcuno entri in casa e hai preso contromisure? No, non ho preso contromisure, ma se arrivo a casa lo aspetto. Cosa gli fa? Cosa gli fa? Quello che capita, vediamo cosa riesco a fare per trovarsi in quei momenti e trovarsi in quelle situazioni per vedere cosa uno riesce a fare per difendere la propria famiglia. Il decreto sicurezza è la brutta fotocopia del decreto che aveva fatto il PD qualche anno fa. Non cambia le regole del gioco e chi usa l'arma e ferisce qualcuno anche se è ripienato in casa subisce gli stessi processi e le stesse conseguenze che ci sono adesso. Bisognerebbe cambiarlo radicalmente. Certo ci voleva qualcosa, un po' di più, non so quanto abbiano fatto in più, bisognerà vederlo anche in futuro rispetto. È libero arbitrio dopo, è sempre il solito discorso, è come viene gestita la legge praticamente. Ah sì, sono d'accordo, solo che poi con la legge italiana purtroppo siamo sempre... Comunque pensa che è giusto difendersi in casa. Sì, 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 io sì, sono d'accordo, d'accordissimo anzi. E personalmente acquisterebbe un'arma? Io no, ma magari potrei usare qualcos'altro, più che una pistola. No, io non acquisterai mai una pistola.